Musica Si preoccupa il pallone, parte velocissimo il tiro Mamma mia che volo Super Cup, ottavi di finale, vita buona Bocaa Junior, arbitro, Alessandro Passarelli, verrà espulso, vediamo tutti. Capitano, ragazzi il capitano, 7 e mezzo, ehi chi è il capitano a voi, Mario vieni, eccolo è arrivato, 10 io l'altro, 10, 10, ok, ottavi di finale, vita buona, Contro, Bocaa Junior. Contro, Bocaa Junior. Contro, Bocaa Junior. Contro, Bocaa Junior. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.